buongiorno tutti amici ben ritrovati oggi è una giornata particolare facciamo una tra quelle trasferte diciamo un po più lunghe durante l'anno ci spostiamo di circa 300 chilometri stiamo andando a un grande evento internazionale il biker fest di lignano sabbia d'oro ed eccoci qui ragazzi stiamo arrivando all'ignano sabbia d'oro siamo proprio all'invoco della rotonda del paese modalità super view oggi abbiamo perso il momento magico adesso ci sono tutte le moto in test prova ragazzi ci infiliamo andiamo a vedere di prendere davide ci siamo separati proprio nel punto più scomodo ragazzi oggi pienone attenzione anche a livello di quad c'è un po di esposizione che è un po' di esposizione e e e e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti I'm bad to the bone Bad to the bone Bad 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 to the bone Bad 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 forse abbiamo trovato il posto giusto per trovare qualcosa da mangiare andiamo a vedere un po' di più, un po' di più 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 Siamo arrivati a dove c'è l'esposizione delle moto in concorso anche quest'anno, come tutti i bianchi, guardate che roba! Una cosa speciale e particolare oggi qui al Biker Fest di Liano Sobbiadoro, avete visto una sella fatta in pelle di boccodrillo? Probabilmente sì, ma non con il boccodrillo ancora attaccato. Siamo arrivati a dove, come on the highway to hell, come on the highway to hell No stop saying, speed limit, nobody's gonna slow us down Grazie a tutti 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 Grazie a tutti